L'intervento del Cardinale Giuseppe Bettoria, Cvescovo di Firenze e Presidente della Conferenza Episcopale Toscana ha chiuso i lavori della prima settimana sociale dei Cattolici Toscani tenuti nella Cattedrale dell'Area Ex Breda di Pistoia. Un incontro a cui è seguita la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Zanacolma di Fedegli alla presenza dei Vescovi delle 17 Diocesi della Regione che hanno dato vita a questo importante appuntamento. Eminenza, ha definito il suo intervento un'esortazione. Qual è l'esortazione essenziale che sente di dare? Credo che l'esortazione sia quella di riandare le nostre radici di Cattolici Toscani che negli ultimi decenni sono stati tra i contributori più essenziali dell'immagine della nostra patria attraverso il lavoro fatto nella Costituzione italiana tutta impregnata di personalismo e di bene comune. e dall'altro però anche riandare alle radici più lontane, quelle del nostro umanesimo e ritrovare quindi una ridefinizione dell'umano proprio in termini personali che ci faccia superare l'individualismo che invece impera e ci sta distruggendo come persone e come società. Come possono i laici assumere questo protagonismo ecco in questo contesto? Io offro due campi di azione che tra loro si devono intrecciare, quello del lavoro e quello della famiglia. Da una parte occorre difendere la famiglia, promuoverla come unione di un uomo e di una donna, aperta alla vita, cellula fondamentale della nuova società e allo stesso tempo però offrire a questa famiglia i spazi del lavoro che ne permettano la vita e ne permettono il protagonismo sociale. Credo che proprio unendo insieme le prospettive del lavoro e le prospettive della famiglia possiamo rigenerare questa nostra società e renderla più abitabile anche per le nuove generazioni perché i giovani devono essere al cuore delle nostre preoccupazioni. In diversi interventi abbiamo avvertito questo ringraziamento alla diocesi per come è stata organizzata per l'accoglienza che c'è stata. Lei che ne pensa? Mi è sembrato un momento veramente ecclesiale, a piena dimensione ecclesiale nel senso della presenza delle delegazioni di tutti i vescovi, di tutte le diocesi della Toscana dei vescovi stessi della Toscana qui presenti per cui c'è stata una grande coralità ecclesiale che il contesto, l'ambiente in cui questo si è realizzato sia stata la Chiesa di Pistoia è motivo di grande soddisfazione per noi certamente e di grande gratitudine per tutte quelle persone che in forme diverse ma con un dispendio di impegno, di fatica, di energia soprattutto di passione personale, ecco hanno reso possibile il funzionamento di un ingranaggio così articolato e anche così complesso che è scorso via liscio direi ecco certamente ora per Pistoia rimane l'impegno di essere la prima ad accogliere il messaggio e la sfida che da una settimana sociale come questa si lancia per cui diciamo il bello comincia ora riporsi grazie grazie grazie